crackers ai semi di lino naturale e fai da te nei precedenti video abbiamo visto le proprietà dei semi di lino e come utilizzarli in cosmesi prendendoci cura dei nostri capelli ma dopo aver estratto il gel cosa ne facciamo dei semi oggi vi mostro come riutilizzare i semi in cucina in modo tale da avere zero sprechi in questa ricetta potete usare sia i semi di lino integri sia quelli sfruttati per l'estrazione del gel i crackers ai semi di lino sono buoni croccanti saporiti e salutari sono perfetti come snack o per accompagnare verdure hummus formaggi o quello che più vi piace sono molto digeribili non contenendo lievito ma soprattutto la loro preparazione è velocissima prepariamo insieme i crackers ai semi di lino naturale e fai da te questi sono i semi di lino avanzati dall'estrazione del gel ed ora prepariamo i crackers ne prepariamo due versioni la prima la prepariamo col bimbi nella seconda utilizziamo il metodo tradizionale con condimenti diversi nel boccale inseriamo 75 grammi di farina d'avena io ho utilizzato i fiocchi integrali e li ho triturati riducendoli in farina poi aggiungiamo 75 grammi di farina integrale o di farro 60 grammi di semi di girasole 40 grammi di semi di sesamo i nostri 30 grammi di semi di lino in questo caso io ho utilizzato il residuo dell'estrazione del gel un cucchiaino di semi di finocchio un cucchiaino di sale chiudiamo col coperchio e azioniamo la macchina 10 secondi velocità 5 come vedete abbiamo triturato un po il tutto aggiungiamo 210 grammi di acqua e 30 grammi di olio chiudo col coperchio e impasto un minuto modalità spiga come vedete a un impasto morbido ora prendiamo una teglia stendiamo un foglio di carta forno o un tappettino in silicone dipende voi che cosa utilizzate e vado a versare tutto il mio impasto ora prendo una spatolina inizia a stendere l'impasto si stende in maniera omogenea in modo che la cottura sia uniforme ora prendiamo mezzo cucchiaino di sale andiamo a spolverarlo sulla sua superficie cuocere a 180 gradi per 35 40 minuti nella parte centrale fino a che risulta dorato e croccante a questo punto togliete dal fuoco fate raffreddare e potete spezzare la mano visto che i miei non sono ancora cotti li taglio con un coltello e li rimetto in forno finché non sono dorati croccanti e questo è il risultato in un piccolo mixer inserisco 60 grammi di semi di girasole 30 grammi di semi di lino e 50 grammi di acqua vado a frullare grossolanamente e questo è il risultato in una ciotola vado a mettere 75 grammi di farina di avena 75 grammi di farina integrale o di farro inseriamo i nostri semi triturati 40 grammi di semi di semi di sesamo a questo punto aggiungiamo la restante acqua quindi 160 grammi un cucchiaino di sale possiamo aggiungere un cucchiaino di curcuma un po di pepe e un po di rosmarino a piacere io utilizzo il rosmarino che ho fermentato con tecnica fervida e dopo che ho filtrato l'ho essiccato è ancora profumatissimo e buonissimo miscelo tutto il composto finché l'impasto risulta liscio e omogeneo verso l'impasto su una teglia lo stendo con una spatolina ora prendiamo mezzo cucchiaino di sale e andiamo a spolverarlo sulla sua superficie cuocere a 180 gradi per 35 40 minuti nella parte centrale fino a che risulta dorato e croccante quando l'impasto è pronto lo togliete dal forno e lo fate raffreddare spezzando i cracker a mano visto che i miei non sono ancora cotti li taglio con un coltello e li rimetto in forno finché non sono dorati croccanti i nostri cracker sono pronti per essere gustati sono buonissimi e molto facili da fare potete cambiare gli ingredienti a vostro piacimento e sbizzarrirvi con la fantasia buon appetito se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al mio canale grazie per l'attenzione ci vediamo al prossimo video ciao